Sono ormai mesi che Mario Cipollini, il campione mondiale di ciclismo e soprattutto delle volate, ha iniziato una sorta di crociata per avvicinare i bambini allo sport delle due ruote. È in questo solco che nella Sala Tobino di Palazzo Ducale è stata presentata la manifestazione Il Pirata e il Leone per i giovani e futuri campioni. Un pomeriggio dedicato alla bicicletta per ciclisti tra i 4 e i 9 anni, già inseriti in ambito sportivo oppure semplicemente curiosi di conoscere da vicino questo sport. Il tutto in programma domenica sulle mura di Lucca. La manifestazione è stata organizzata dal cycling team Lucca ed è nata da un'idea dello stesso Mario Cipollini che dopo un periodo durante il quale a Lucca, fatto parlare di sé solo per vicende giudiziarie, torna finalmente con un'iniziativa legata al suo mondo. Da cosa nasce quest'idea? Nasce tempo fa dall'idea di voler alimentare la passione dei giovanissimi perché purtroppo con il problema Covid era praticamente impossibile organizzare gare e per cui avevo pensato, avevo immaginato di essere il sottoscritto ad andare a cercare ragazzini per poter alimentare la fiamma della passione perché senza agonismo le cose un po' si spengono. E da lì l'idea di poter fare una cosa in onore a Marco e lanciai l'idea di farla a Cesenatico. Purtroppo per una serie di problemi organizzativi Cesenatico non ha potuto organizzare quello che invece siamo riusciti a fare a Lucca. Infatti ringrazio tutte le istituzioni lucchesi, il sindaco, tutti i vari assessori, coloro che ci hanno permesso di far sì che questo evento domenica possa in qualche modo regalare spero delle emozioni e della passione del ciclismo comune.